ma non è di rigore sbagliato scelzi si darà riuscire a farlo poi cullibali lo batte dal giorno la ritornata dell'arri che lascia la juve in fondo alla casella a rifiangere forse a cristiano orlando ed ammirare questo magnetico lanciatissimo napoli non era gesto da solo suonito in testa stava elaborando il perché di altri 95 minuti così e in quanto posso dire pubblicamente dire servendo il suo spirito, il suo corpo e non si agire provando a passare da tutta una parte che è un'altra cosa che ho consentito bisognava essere curiosi quando arrivavamo vicino all'aria non lo siamo stati di bisogno di migliorare però sotto aspetto caratteriale e difensivo la scuola ha fatto una buona partita è quello che abbiamo chiesto controvoto Napoli solo gli occhi dell'allenatore che deve contare indicamente oltre al risultato questi sono gli occhi della gestione che di tutta questa storia denuncia che il possibile porto partito tra uno di Napoli e stasera abbiamo anche un problema importante che lo dobbiamo superare soprattutto perché il primo di vento è la roba mentale ecco il punto al cui qui è continuato diventato un sensativo di meca tecnica e mentale ma non è un sensativo di vittoria e questo è una sensativa di vittoria non è un sensativo di vittoria